Perchè hai iniziato a prendere il pump al tattico? Perchè il pump fa più danno. Il tattico tradi la tua vita. Ehi, il mio figlio. Ehi, il mio figlio. Che culo è questo? Beh, ma stanno a scherzare questo culo. Che culo c'avevo lui. Ehi, il mio figlio. Ehi, il mio figlio. Ehi, il mio figlio. Ehi, il mio figlio. Chissà quanto anno fa questa arma alle strutture. Mazzi. C'è quanto anno fa che non ho mai shottato le strutture, però. Fa cento... Sette. Se ti piace perché prendi la doppietta? Per cambiare, regà. E sempre le stesse armi, e sempre le stesse cose. Variamo un po', cazzo. Su, regà. Su, regà. Ehi, il mio figlio. 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 Nooo. Pensavo che era la mia. Ehi, il mio figlio. 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 Bello fast qui, è il mio figlio. Bello fast qui, è il powerone. Bello fast qui, è il mio figlio. Bello fast qui, è il mio figlio. Ehi, il mio figlio. Bello fast qui, è 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 il mio figlio.